Ora torniamo a parlare delle maleodoranze denunciate dai cittadini che abitano intorno alla raffineria Eni di Stagno in provincia di Livorno. L'ARPAT, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, bacchetta l'Eni e dice deve essere più reattiva nel prevenire i possibili inquinamenti. Vediamo di più con Jacopo Cecconi. Queste acque erano mescolate con idrocarburi e allo stesso tempo il tetto galleggiante del serbatoio, che quello che praticamente evita il contatto fra questi materiali e l'aria era fuori posto. Fuori posto significa che il tetto era allagato e quindi il pelo libero di questi liquidi era a contatto con l'aria. Era questa l'origine delle maleodoranze insopportabili denunciate a fine aprile dai cittadini che abitano a Stagno intorno alla raffineria Eni. L'azienda si è attivata per rimediare solo dopo le lamentele e l'ispezione dell'ARPAT. I cittadini stanno preparando un esposto collettivo alla procura, temono effetti anche sulla salute. Sulla salute non ci pronunciamo perché d'altronde è giusto che sia il sistema sanitario e i sanitari a pronunciarsi. Però sicuramente quello che possiamo dire è che al di là del disturbo olfattivo c'era un'emissione abbastanza consistente in questo caso di vapori, di idrocarburi. Sulla base delle raccomandazioni di ARPAT il Ministero ha prescritto a Eni un cronoprogramma per ridurre al minimo i disagi. La prossima settimana è prevista una nuova ispezione. Eni, dice ARPAT, è collaborativa ma... Secondo me devono innestare una marcia in più, fare un salto in avanti dal punto di vista anche proprio della gestione. In tutta l'area, ricorda Mossaverre, sono state censite 500 sorgenti di maledoranza, metà Eni, metà di altre aziende. Ospichiamo che ci sia più una maggiore reattività da parte delle aziende stesse nel risolvere i problemi che loro conoscono molto meglio di noi. Nel complesso ARPAT monitora la qualità dell'aria di stagno con una centralina, le medie giornaliere pubblicate. Sono entro i limiti di legge per tutti i parametri, ma i cittadini chiedono di conoscere anche i picchi. In certe ore vi risulta che siano sforati i limiti? Ma in certe ore qualche superamento c'è, ma superamento di cosa? Magari ci sono dei picchi che possono durare un certo periodo, però dal punto di vista dell'impatto, chiaramente, sicuramente, è un'origine molto forte, però quello che conta è l'esposizione effettivamente nel tempo.